2.20 invito a ritiro parere contrario, 2.21 parere contrario, 2.23 parere contrario, 2.24 invito a ritiro parere contrario, 2.25 parere contrario, 2.26 contrario, 2.27 invito a ritiro parere contrario, 2.28 parere contrario, 2.29 parere contrario, 2.30 contrario, 2.31 contrario, 22.32, 23.34, 21.35, 21.37, 21.38, 21.39, 21.01, 21.01, 21.01, 21.01, 21.01, 21.01. si mi sembra 2.02 no ci sembrava strano